Adesso posso ragionare più liberamente di qualche tempo fa, quindi dico senza problemi la mia, perché fra l'altro penso che questi vent'anni hanno distrutto un concetto basico che è un rapporto di sincerità fra la politica e i cittadini, che è una roba... è un disastro. Ma comunque, chiudiamoli. Allora, sinceramente, siccome io non ho messo e non metto Bersani davanti al PD, non posso metterci neanche Renzi, neanche Cum, né nessuno. Quindi ragiono a partire dai concetti politici. Quest'operazione che ho visto ieri, Franceschini, Renzi, eccetera, per me intanto come operazione non è convincente perché non vedo i contenuti, a me risultava che ci fossero anche certe diverse opinioni, torno anche a temi come quelli che ho affrontato poco fa, e quindi poi dare l'impressione che ci siano problemi di posizionamenti più che problemi, insomma, di merito, è un'impressione che è già accorsa in queste ore, non è, secondo me, una buona cosa. Poi dico esplicitamente cosa... cos'è che non mi convince anche una posizione come quella che fin qui, devo dire, fin qui ha espresso Renzi, posto che io non voglio fare il kingmaker, ho fatto il segretario, dirò la mia, sui contenuti, ma non è che sono quello che battezza Tizio Caio, adesso vedremo i candidati, qualcuno lo appoggerò, eccetera. Allora, quello che non mi convince sono due cose fondamentalmente. Una attiene al discorso che facevo prima. Qui stiamo parlando di premier, stiamo parlando di segretario di un partito. Quindi credo che sia giusto chiedere a uno che si canse di segretario del partito qual è la sua idea di partito, e quindi di sistema politico e quindi di paese, e non aver risposte attraverso delle battute, perché è un discorso molto, molto serio. Io credo che in quelle posizioni si conceda un po' troppo, ecco, rispetto a quello che abbiamo vissuto, in termini di rischio che il partito sia a volte un bacino interessante, utile, a volte una sorta di impedimento o di fastidio, a volte una salmeria, a volte impedimento. Fra l'altro i latini, mi ha colpito questa cosa, per dire salmerie dicevano impedimenta. Quindi questo concetto, diciamo, un po' mi serve e un po' mi dà fastidio, è un concetto piuttosto antico. Allora, la priorità per me è organizzare una formazione politica che scelga il meglio come segretario, ma chiedo che ci si esprima su alcune di quelle cose che ho detto, eccetera, e mi pare che le posizioni non siano collimanti con quelle che ho in testa io. Grazie. Grazie. Grazie.